Buongiorno a tutti da Enjoyviaticus, ci troviamo oggi in Egitto, stiamo affrontando la crociera sul Nilo, ed eccolo qui il Nilo. Si tratta di uno dei fiumi più lunghi e più celebri del mondo, l'antica civiltà egizia, una delle più rinomate della storia, si è sviluppata proprio qui, grazie al Nilo, e ancora oggi la maggior parte della popolazione egiziana e delle città sorgono proprio sulle rive di questo fiume immenso, sono quasi 7.000 km, attraversa 8 stati africani, e proprio sul Nilo, lungo la strada del Nilo, sono posti anche i principali monumenti tipistorici famosi in tutto il mondo, che hanno fatto dell'Egitto uno dei paesi più visitati del mondo. Grazie